Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 18esima festa del Cinema di Roma. Sono Convinicio Marchioni, Paolo Briguglia, Esther Pantano, tra gli attori di I Leoni di Sicilia, una serie Disney Plus che vedremo sulla piattaforma dal 25 ottobre. Allora, chi sono i Florio e quale direste che è la loro più grande dote? Il motore che li porta avanti, la testardaggine, l'essere sì orgogliosi di ciò che sono, ma allo stesso tempo volessi liberare dall'etichetta? Per Paolo, secondo me, è la ricerca di un'identità, di un luogo, di un nuovo mondo dove impiantare la famiglia Florio e farla crescere. Quindi l'ambizione, la testardaggine, però ha a che vedere anche con l'identità, secondo me. Per lo meno io ho cercato di lavorare su costruire quest'identità della famiglia Florio attraverso questo andar via da Bagnara Calabra, portarle e soprattutto educare Vincenzo a un certo tipo di modo operandi che poi lui si porterà avanti per tutta la serie. Sono dei commercianti, un commerciante deve crescere, non può stare fermo dov'è. Commerciare, arricchire, non solo arricchire per il denaro, arricchire perché quello è il senso dell'impresa e nel momento in cui si trovano nell'impossibilità di farlo, anzi rischiano di perdere tutto per la Calabria, per i terremoti, per tutto, per la povertà che li circonda, partiranno. Soprattutto Paolo è quello che ha questa caparbietà imprenditoriale. Ignazio lo accompagna volentieri perché è il fratello più piccolo, forse avrebbe desiderato altro per la sua vita, ma a un certo punto questo nome Florio diventa la cosa dominante della loro vita. Più volte nella serie si dà tu sei un Florio, tu sei un Florio, un Florio fa così, un Florio fa colà. In nome di questo nome Florio, loro fanno dei sacrifici immensi, rinunciano anche, nel mio caso, anche alla propria felicità personale e ai propri sentimenti, perché quel tragitto lì, quella piramide che si sta costruendo è più importante della propria felicità piccola. Ogni rivoluzione ha un prezzo? Sì, hanno tutti un immenso nonostante tutto, tutti. Nonostante tutto riescono a fare questo, nonostante non ci si possa realizzare a livello sentimentale, sai che devi essere lì per la tua famiglia, nonostante tu non possa ricreare un tuo nucleo familiare da zero, comunque sai che in quel modo potrai stare vicino alla donna che ami e che non potrai mai avere, ma la puoi vedere, puoi starle vicino, puoi in uno sguardo accarezzarla. Nonostante tu sappia quanto la tua famiglia in certi momenti ti odia, proprio profondamente, sai che in realtà stai portando del bene, stai creando un impero. Quindi viviamo tutti e tre credo con un grandissimo dualismo e con grandissimi coltelli e pugnali dentro la schiena che però ci permettono comunque di... E loro si chiamano i leoni di Sicilia perché se ci pensiamo è un po' assurdo, cioè dei commercianti poveri sono arrivati lì, non sono nobili, non hanno uno stemma, eppure quando l'azienda comincia ad andare meglio loro fanno costruire questa gigantesca insegna e scelgono il leone come simbolo. Il leone è l'animale che li rappresenta. Credo che, forse Paolo è già morto quando arriva questo insegno, forse è morto. Però no, però sei di chi sono. Loro dentro sono dei poveracci, dei commercianti che però dentro si sentono dei leoni e cercheranno di essere dei leoni. Questa è una serie in cui spesso si fa riferimento anche agli odori, ai profumi, un po' per veicolare il senso di appartenenza, l'innamoramento, i ricordi. Come avete portato questo tipo di sensorialità sullo schermo? C'era, era nel set, c'erano gli spezzi ovunque, siamo stati travolti la prima volta che siamo entrati nell'aromateria. Più che altro è stato un lavoro straordinario di scenografia, nel senso che la nostra, la crescita di questa famiglia, perlomeno nei primi due episodi, si vede attraverso l'espansione di una piccola bottega, prima quando costruiamo io e Paolo, poi invece che cresce e aumentano le spezie, le spezie erano vere, tutte quante, quello che si vede nella serie è tutto vero e ti assicuro che entrare sul set la mattina o la notte era già calarsi in quella cosa lì e quando Paolo Florio in una scena, noi siamo questo, fa odorare la manica, insomma della propria camicia al figlio di Vincenzo è venuto molto semplice, tra virgolette. Ce l'avevamo, ce l'avevamo fatti regalare a ognuno di noi delle scatolette con un po' di quelle spezie lì. No, se l'ho fatto qualcosa che avete fatto. Tu non ce l'avevi, io ce l'avevo a casa. No, io abbiamo un po' anche mangiucchiato la scenografia. Sì, perché in mezzo alle spezie per cucinare c'erano anche la frutta candita, la frutta secca, i pistacchi, quindi era anche lavorare e mangiucchiare, diciamo che abbiamo introiettato le spezie. Grazie, grazie a te. E io ringrazio Vinicio Barchioni, Paolo Briguglia e Ser Pantano, tra gli attori di Leone di Sicilia su Disney Plus dal 25 ottobre e alla 18esima festa del Cinema di Roma. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, Festival Insider.